Troneggia il centro della chiesetta seicentesca di Mola, Extra Omnes, l'opera monumentale dedicata a Papa Francesco dall'artista partenopeo di fama internazionale Lello Esposito. Extra Omnes, la frase del camerlengo quando il conclave è sciolto e il Papa eletto resta solo nella Cappella Sistina, ha varcato per la prima volta la soglia del suo atelier napoletano per essere messo in mostra per tre giorni nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie. C'è stato questo invito a esporre qualche opera in questa piccola chiesa, la più piccola chiesa del mondo, mi ha dato questa sensazione. Ho pensato di ricomunicare quest'opera che avevo fatto, quest'installazione che avevo fatto in quegli anni. Papa Francesco ci regala i colori, ci regala i messaggi straordinari. E quindi l'ha colorata. E quindi l'ho colorata, quindi ho voluto colorarla e l'ho fatta di forma circolare. L'iniziativa serve a sensibilizzare le coscienze sul degrado della chiesetta che Rotary Club Rutigliano e Terre dell'Uva si è impegnato a restaurare offrendo gratuitamente il progetto di restauro, che ha già ottenuto i pareri della Curia del Comune della Sovrintendenza e con una campagna per raccogliere fondi. I tempi saranno dettati dalla raccolta fondi che per restaurare la chiesa mandano via circa 180 mila euro e quindi il tempo necessario per poter raccogliere questa cifra poi si partirà ovviamente.